Rivolta al carcere di Trento, oltre 200 detenuti barricati per protestare contro l'ennesimo suicidio. In fiamme, seggi e tavoli. Si è voluta la mediazione di commissariato. Questura è garante per riportare la normalità. Le reazioni dopo la rivolta in carcere. Il prefetto. Non ci sono feriti. Tutti problemi risolvibili. Fugatti. Grazie ai professionisti intervenuti in modo rapido. La garante. Serve un tavolo di confronto per la prevenzione. Arriva la scura di Fugatti sui richiedenti asilo. Stravolto il sistema di accoglienza. Stop ai corsi di italiano e ai trasporti gratuiti. Tagli al personale e ci informi ridotto al 50%. Animalisti contro l'uso dei poni a Santa Maria Maggiore a Trento. Gli antispeciste appendono alcuni striscioni. La replica della fattoria. I nostri animali sono tutti salvati da morte certa e maltrattamenti. L'espresso, ricorda Antonio Megalizi, e li dedica la copertina del settimanale. Persona dell'anno, assieme ai giovani che combattono per il cambiamento. Un ragazzo che credeva nell'Europa e nel giornalismo. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAFACLI. CAFACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it. 199-199730 Grazie a tutti.